è finito lo stato d'emergenza non è finito il covid state attenti state quante volte in questi giorni abbiamo sentito ripetere questa cantilena in realtà sono passate poco meno di 48 ore dalla fine dello stato d'emergenza per la pandemia in italia ricordiamo il 31 marzo eppure qualcosa non sta andando per il verso giusto perché ciao sono giovanni villino quello che stai ascoltando è scalo a grado un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo intanto è bene dare delle coordinate oggi 2 aprile 2022 un sabato che registra 70.803 nuovi casi in italia nuovi casi di contagi da covid 19 129 morti registrati e un tasso di positività che in italia è stabile al 14,8 per cento significa che ogni 100 tamponi che vengono processati il 15 per cento circa sono positivi andando in sicilia vede 5000 positivi in 24 ore per la precisione 4952 so bene che dei numeri non ci si può innamorare però sono numeri che fanno riflettere anche perché in sicilia a differenza del dato nazionale qui il tasso di positività l'indice di positività sale al 16,6 per cento ricordiamo ieri era al 10,9 questi sono dati che fanno riflettere insieme ai ricoveri perché crescono sia quelli in regime ordinario che quelli in terapia intensiva quindi qualcosa non sta funzionando e per rimanere sempre alla sicilia a palermo nell'ospedale covid di riferimento il cervello nei giorni scorsi la stessa responsabile tiziana maniscalchi aveva evidenziato come tutti i posti fossero occupati adesso in tutto questo c'è l'euforia di lasciarsi alle spalle il covid ma il covid non è mai andato via e soprattutto non segue le scelte politiche c'è il governo che aveva previsto un liberi tutti senza mascherina dal primo maggio in realtà quello che sta accadendo con la curva epidemiologica vede crescere i contagi e ancora non abbiamo abbandonato la mascherina intanto il 20 aprile è la data fissata per prendere la decisione prorogare o meno l'obbligo di tenere le mascherine al chiuso ancora per qualche settimana intanto ricordiamo che fine a fine mese fino al 30 aprile bisogna indossare la ffp2 quando si va su aeree i navi traghetti così anche sui mezzi di trasporti regionali e locali metropolitane tram scuola bus insomma tutti quelli che sono i mezzi di trasporto come anche nei cinema nei teatri nelle sale da concerto mentre invece le mascherine chirurgiche vanno indossati in tutti i luoghi al chiuso eccezione ovviamente delle abitazioni private una situazione che diciamo crea ancora più confusione di quella che non ci sia già tra persone che da una parte vedono terminare lo stato d'emergenza dall'altra desiderano riprendere la vita normalmente però dall'altro lato ancora abbiamo l'organizzazione mondiale della sanità che mette in guardia stati state attenti state abbandonando troppo velocemente le misure di contenimento dall'altro lato abbiamo un governo che prima dice dal primo maggio via mascherina e poi aspettiamo un poco l'andamento dei contagi forse stiamo correndo troppo e la direzione non è detto che sia quella giusta hai appena ascoltato scalo a grado io sono giovanni villino puoi seguire su spreaker su spotify e su tutte le piattaforme di condivisione audio e video ti aspetto